Un bel gol che è arrivato a mettere in discesa la partita, perché quel tuo gol al finale di primo tempo l'ha incanalata. Sì, sicuramente ci ha fatto bene, ci ha dato consapevole poi di chiudere il primo tempo in doppio vantaggio e iniziare il secondo tempo con un approccio un po' più tranquillo e era importante anche chiudere la partita al più presto perché 2-0 non è un bel risultato quando una squadra cerca di accorciare il risultato. Quanto è stato, ti chiedo, importante questo tipo di reazione? Per te che sei uno dei giocatori di maggiore esperienza, perché a Roma era girato praticamente tutto male sin dai primi minuti della partita, avete dato una risposta importante, Vittoria Netta anche nell'atteggiamento. Quanto è stato anche importante ricompattarvi nel ritiro, tornare a fare gruppo e dimostrare che il gruppo c'è sempre stato? Può incappare in una prestazione da dimenticare come l'ultima, però stasera avete risposto presente. Potentissimo, però anche per il futuro del campionato, perché ci dà consapevole che se siamo messi bene in campo con l'atteggiamento giusto possiamo fare delle grandi cose. Come si riparte adesso in vista della partita difficile contro un Napoli forte? Intanto chiudiamo questa partita, siamo contentissimi di passare il turno e da domani sarà da pensare da Napoli una grandissima squadra che comunque sta passando anche da loro un momento un po' difficile. Giochiamo in casa e proveremo di fare qualcosa di interessante. Ti faccio l'ultima, si passa il turno, si gioca contro la Juve, da quest'anno viene reintrodotto il sorteggio quando ci sono incroci tra squadre Serie A, è vero la Juve e la Juve, però la Coppa Italia è anche una competizione che in gara secca può dire tutto. Adesso che l'Udinese torna dopo diverso tempo ad arrivare agli ottavi di finale voi lo considerate comunque un obiettivo nonostante si gioca contro la squadra più forte? Sicuramente sarà una partita difficilissima. Lo prendiamo come un premio, non abbiamo niente da perdere, non giochiamo con la più forte squadra in Italia, che è un organico molto forte, molto importante, andremo o qua o lì a giocare la nostra partita.